di questa sentenza? Siamo soddisfatti, è stato riconosciuto il diritto a risarcimento della signora Rodriguez, è stata condannata l'imputata, al di là di questo è una vicenda comunque spiacevole, le cui conseguenze sono state forse oggi solo mitigate dalla sentenza, per so che le affermazioni che sono state rese dalla signora Moric hanno certamente creato molta sofferenza a Venezia Rodriguez e penso che immagino, posso solo immaginare, posto che non lo sa ancora, l'esito del processo è che la pronuncia di oggi potrà solo mitigare questa cosa. Per andare in beneficenza questi soldi? Certamente sì. Il giudice ha liquidato 2.000 euro. 600 euro è la multa, è la sanzione pecuniaria per la quale è stata condannata Nina Moric, non c'entra nulla il risarcimento a quei 600 euro.